le pompe in azione a monte grotto terme per far defluire l'acqua dei canali nella zona che porta verso turri purtroppo quel fosso la prende tutta l'acqua della zona industriale e san daniele per cui può finire in fondo a rialto e c'è una solamente una bocca a porta e lei si è trovata l'acqua nella ogni ogni volta che viene pioggia forte così e succede queste cose perché non hanno sfogo in fondo per cui noi andiamo tutti sotto acqua sono le aree di campagna quelle più colpite dall'intensa perturbazione che sta attraversando anche il padovano ad abano terme il sindaco federico barbierato ha disposto la chiusura di alcune vie a montortone giarre dove i canali hanno invaso le strade le zone maggiormente colpite sono quelle naturalmente più basse quindi qua siamo nella zona che collega a monte ortone a monterosso in queste zone che sono quelle più in sofferenza vicine agli argini abbiamo messo il divieto di entrare ma sembra che non sia molto rispettato invito tutti alla massima prudenza perché mezz'ora fa abbiamo aiutato a uscire da da un ciglio di un del fosso un'auto che aveva voluto lo stesso accedere alla zona che era stata transenata quindi massima attenzione la protezione civile a ponense nella sede dei magazzini per tutta la giornata ha preparato sacchi di sabbia per i cittadini che volevano proteggere garage scantinati le criticità si sono registrate anche nelle aree rurali nella zona dei colli Ugani dove a rovolone teolo molti campi sono andati sott'acqua si tratta soprattutto di vigneti e campi che in questo periodo sono in attesa della semina le piogge intense ovviamente hanno provocato allagamenti anche nelle zone golenali tra cervarete santa croce veggiano saccolongo selvazzano la col di reti è in continuo monitoraggio della situazione e chiede la realizzazione di un piano invasi per contrastare la siccità ed aumentare la raccolta di acqua piovana garantendo così anche una maggiore sicurezza idraulica il veneto infatti recupera solo il 5 per cento della pioggia rispetto ad una media nazionale dell'11 per cento a padova città il bacchiglione resta il sorvegliato speciale la pioggia unita ai cantieri ha mandato in tilt la viabilità già molto stressata in questo periodo